Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Tintoria, l'ospite di questa puntata è Irene Graziosi, ciao Irene, benvenuta a Tintoria, una puntata che sarebbe dovuta esistere tanto tempo prima, ma c'è anche Stefano Rapone, non so se l'avevi visto, è vero che ti avrei dovuto invitare tanto tempo prima perché come hai detto quando sei arrivata hai invitato cani e porci, però non so chi è chi, no certo questo lasciamo decidere agli spettatori, alcuni vorrebbero essere cani e altri vorrebbero essere porci, però queste sono le uniche due tipologie di ospiti che abbiamo avuto a Tintoria, cani e porci, tra i due io preferirei essere forse cane, perché comunque l'animale è straordinario, senza nulla togliere al maiale, però il porco è il problema. Per me è sempre un problema perché comunque le declinazioni, cioè se li metti al femminile sono sempre insulti per le donne. Sono grevissime, però l'altra cosa che mi hai detto comunque pochissime donne ospiti, queste sono le due cose che hai detto. Come dicevano in Porco Rosso, meglio porco che fascista. Però questa è una cosa che noi a Tintoria non condividiamo, devi sapere che Tintoria è il podcast dell'apologia. Ah ok, negazionismo, buona saperti. Te l'avrei dovuto dire prima, ti stai prestando a questo tipo di operazione qua, a questo tipo di operazione qua. Allora come si fa a essere dei professionisti? Perché come hai potuto vedere qui, avremmo dovuto girare un'ora e mezza fa, ma abbiamo avuto un miliardo di problemi tecnici. Tu che rapporto hai con i problemi tecnici? Questa domanda che, indovina, non mi ero preparata. Eh no, 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 infatti non ho una risposta pronta. In realtà, allora un po' secondo me c'è una differenza geografica. Cioè a Milano non succedono. Questo ci sta. E quindi… Qui a Torpignattara invece non succede altro. No, e poi comunque secondo me sono una parte… cioè in realtà ci sono quasi sempre, cioè non riesco a immaginarmi un set, a parte diciamo quelli molto semplici, in cui che tu dici questo invece è difficilissimo o no? Questo complesso set… Però comunque è un set casalingo, secondo me, cioè se devo pensare a tutto quello che mi è successo sui set, sono successe un sacco di cose non previste, alla fine uno le risolve a cazzo di cane. Cioè che devi fare? Proprio così. Oggi voi non so se lo sentite, ma c'è un fruscio. C'è un fruscio che cercheranno di togliere in posto. Se non lo sentite… Allora, se lo sentite è colpa mia. Se non lo sentite è merito di Niccolò Contessa. In realtà solo le persone molto belle lo sentono. Vero, vero. Ho saputo dire questa cosa. Ho sentito dire questa cosa. Coraggio, l'italiano, la tua lingua. Non sono più abito a fare le cose dal vivo. No, poi soprattutto di lato. Infatti forse devo fare questa premessa. Abbiamo fatto 40 puntate in DAD su StreamYard perché avrei saputo che c'è stata una pandemia che c'è ancora. Certo. E quindi ho smesso di fare le puntate dal vivo. Adesso ho cambiato casa. Tu lo sai bene, però facciamo anche per gli assidui ascoltatori e ascoltatrici, cani, porci e quant'altro. E adesso quindi nuovo set. Qui dietro c'è una televisione. Che proietta solo tintoria. Questo è uno schermo. Questo è un piccolissimo iMacs che ho solo io nel mondo. No, tra l'altro questo poster, che poi dovrei firmare, farmi fare questo poster nel legno mi è costato come far costruire questo palazzo. Cioè potevo scelere se costruire un palazzo di otto piani oppure farmi fare in legno. Hai risparmiato sul mixer. Esatto, risparmiato sul mixer. Tra l'altro non ho risparmiato sul mixer che mi è costato come due scooter. Però nonostante questo i problemi tecnici si sono presentati. Allora, io volevo un po' parlare di varie cose in realtà. Come ti sei trovato? Allora, perché tu fai, per chi non lo sapesse, un sacco di cose. Però fai effettivamente la podcaster in veste sia di autrice che tu lo voglio o no. Podcaster proprio? Podcaster. Non so, la content creator. Ok, sì. Tu cosa avresti detto? Autrice. Autrice, va bene. Autrice è più facile da spiegare alle cene a Natale, però content creator sulla carta di identità, ora che la rifai, ci scrivono content creator in inglese. Speriamo di no, però ok. Ma sia da autrice, sia però l'hai fatto anche da, non so come si dice, Sì, 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 da conduttrice. Sì, da conduttrice, certo. Non mi serve, adesso che mi invento le parole. Ecco, come te lo senti meglio e come ti senti a fare le cose? Perché poi tu, io penso a, mi vorrei ricordare il nome del podcast che io continuo a chiamare così, che facevi tu, che si chiama, che si chiamava, quello dove avevi tutti i ospiti, tu invece, quasi tutti. Quello su Radio Raim? No. No, no. 20. No. No. Ah, la prima volta. No, è la prima volta. Ma tu chiami podcast di video? Tutto? Io chiamo podcast tutto quello che non è stand-up comedy, per me è podcast. Ah, va bene, no, è giusto per tararmi. Sì, ecco, che tra l'altro, molto bello, molto difficile, perché comunque sia, parli di cose fighe, complicate. Come te lo sei sentito? Cioè, come sei trovata lì a dire, ok, devo fare questa cosa con queste persone? Allora, in realtà, cioè, secondo me, questo lavoro qui, ma forse come tutti i lavori, diventa molto bello quando lavori con delle persone fighe, e se no diventa un incubo orrendo, e io la prima volta l'ho realizzato con Vice, che salutiamo, in particolare con Alice Rossi, che è la responsabile editoriale di Vice, e con Lauren Green, insomma, con tutte delle persone che erano anche amiche, per cui ci siamo divertiti tantissimo a farlo, e l'abbiamo girato a casa mia, cioè era una cosa in cui mi sentivo molto a mio agio. Sul condurre, diciamo, io non ho particolari ambizioni di essere in video, cioè perché non mi piace essere attenta alla mia immagine, cioè come se sono truccata, cioè comunque tipo qualche volta su 20, se vado particolarmente in pigiama, comunque mi dicono, no, cavoli, cioè potrei non presentarti in pigiama. e queste, cioè, sono cose a cui a me non va, oppure mi dicono tipo che coraggio, che vai struccata, io ogni volta dico, boh, raga, cioè, ma come che coraggio, grazie, cioè non boh, e quindi, cioè, non ho tanto quella, non mi piace tanto quella cosa, però mi piace parlare con le persone, mi trovo anche a mio agio di fronte a una telecamera, cioè non è che mi imbarazzo, non mi piace poi dover stare attenta a come sembro, cioè come appaio questo, però è stato figo, poi, devo dire, era un momento in cui di sesso, cioè, e di identità di genere si parlava, ma si parlava ancora molto poco rispetto a oggi, no, comunque era tipo il 2017, cioè. Se ne parlava in purezza. Se ne parlava in un modo, sì, ancora un po', cioè non era ancora diventato, Instagram era una cosa molto meno pervasiva, c'era molto meno attivismo social, quindi era un mondo anche diverso, che fa strano dirlo, però effettivamente oramai ci arriviamo. Adesso che c'è stata la pandemia era letteralmente un mondo diverso, quattro anni fa era un mondo diverso, un mondo migliore, scherzo, scherzo. Ma chissà, da un punto di vista pandemico sicuramente. Sì, da quello sì, dal punto di vista della consapevolezza forse. Però secondo me c'è stato anche un overflow di consapevolezza, che poi non è più consapevolezza, però appunto se ne è iniziata a parlare, come tutte le cose di cui si parla e di cui vale la pena parlare e poi i social generano una corona di cose che hanno quelle parole, quindi dicono di essere quell'argomento, però sono solo voce, sono solo scritte e tutta quella roba là poi diventa pesante e rende molto più pesante un argomento che invece sarebbe interessante. Sì, e poi secondo me la cosa carina della prima volta è che l'idea era anche quella di andare a chiedere ai diretti interessati, cioè poi ai diretti interessati diciamo persone che rappresentavano alcune complessità di quando si parla dell'ambito di identità di genere, orientamento, sessualità eccetera, in modo da togliersi un po' quella cosa che uno ha di pensare, e questo su me sono sempre i social che te lo fanno pensare, che ci siano delle categorie, cioè dei blocchi di persone che in virtù di una loro caratteristica comune, cioè l'essere transgender, sono uguali per tutta un'altra serie di caratteristiche, cioè vogliono essere chiamati in un certo modo, vogliono fare… e questa roba qui secondo me poi ovviamente appena parli con le persone singole, no? Cioè viene svelata questa cazzata. Poi hanno una sola cosa in comune che è l'identità sessuale, oppure poi per il resto sono persone tutte complesse, diverse, ok? Senti, ma allora ti avrei voluto fare tutte premesse, visto che siamo qua da due ore, però io adesso parlerò di tutt'altro, basandomi su una cosa che hai detto, Tintoria è il podcast della libertà assoluta, quindi se a un certo punto tu pensi, adesso voglio parlare di questa cosa qua, non voglio più di parlare di questa cosa e parli per 21 di qualcosa, noi accogliamo molto. Quindi la domanda che ti voglio fare è, ma che rapporto hai con i commenti sul web? Perché la mia risposta sarebbe stata, beh, non leggere i commenti. No, no, ma infatti in realtà… No, ma quella cosa che… Io li leggo tutti, però consiglio che non seguo… Allora io non ne leggo tanti e devo dire, cioè non è che tipo mi fanno del male, anche perché poi ormai sono su internet, cioè ho fatto Vice, cioè credo che tutti odiano tutti, quindi… Miami Vice, infatti. La seconda stagione sei tu, se non sbaglio, Miami Vice. Certo, sei la rapinatrice italiana. No, non me ne frega niente, cioè di quelli cattivi non mi importa tanto, mi dispiace quando mi fanno notare una cosa che ho sbagliato, perché c'hanno ragione, perché dico cazzo e poi ormai è un video, cioè non è che posso tipo fare una correzione, cioè se ho detto una cazza, tipo l'ultima volta ho letto un libro di un autore albanese, ho fatto un po' di confusione sul conflitto balcanico che, cioè, è comunque molto confuso e minchia ho detto una cosa sbagliata e sotto me l'ho detto, ah però effettivamente, ho pensato però c'avete ragione, cioè ho detto una cazzata. Quello far rossicare però quelle… in teoria sono cose costruttive, quindi ci ha la prossima volta. Sì, sì, no, ma infatti… Impeccabile. Per il resto… Anch'io ho fatto la stessa cosa qui l'altra volta con Iepi Ippo e i Chocofresh, li ho confusi. Ah, eh, eh, beh che più o meno è come i bosniaci e serbi, cioè… E' come confondere ceppi etnici che si sono uccisi. E ora sono riusciti, tra l'altro, dopo quel mio intervento sono riusciti di nuovo gli Eppi Ippo, adesso sono i nuovi in commercio. Madonna stessa. Davvero, eh? Sì, come te con il… Come il Winner Taco. Winner Taco, è lo stesso modo, quindi magari anche tu con quell'errore puoi aver… Prendo dei bosniacchi a casa. La Jugoslavia potrà tornare… Può essere. Tra l'altro questo ci apre a una domanda… Conflitto paccato. Guarda, no, però a una domanda che c'è stata posta che vorremmo forse che diventasse molto difficile. Ma vi è stata posta adesso? No, c'è stata posta un po' di… due settimane fa e forse vorremmo che diventasse un altro capitolo fisso del podcast. Qual è il tuo dittatore estero preferito del ventesimo secolo? Perché io ero sbagliato in effetti, però vabbè, là non è successo niente. Molto difficile, perché pensavo alla Jugoslavia, quindi poi ho pensato a Tito. Eh, eh, forse è Tito. Tito… Forse è Tito. Nella premessa che facciamo di vota, che è chiaramente il dittatore preferito… Ma dittatore… Ma dittatore… Non italiano perché altrimenti è troppo facile, se era compresa anche l'Italia, la risposta era una di una soltanto. No, dittatore… forse è Tito, perché ovviamente non valgono quelli che… Cioè, quelli che hanno tipo, che ne so, comandato l'Unione Sovietica dopo Stalin, ma non erano proprio dittatori, non valgono… Cioè, non erano… Beh, oddio, in realtà forse capo dell'Unione Sovietica comunque… Comunque a me Gorbaciov… Cioè… Però era un buonone… Certo, Gorbaciov non conta, cioè Gorbaciov… Uno di noi… Gorbaciov, nella finale di Zangief in Street Fighter, balla insieme a lui. Cioè, quindi comunque per me è un personaggio positivo. No, no, ma è un personaggio positivo, povero. No, allora, mi trovo affascinante Pol Pot, però non avrei voluto incontrare… Cioè… No, certo, tosta incontrare Pol Pot. Sì, sì, sì. Cioè, non è stato super ok. Dici che non si poteva fare un 20 con Pol Pot. Con Pol Pot, secondo me no. Ma secondo voi esistono… Cioè, la famiglia Pot esiste ancora? Pensa a questi significati poi. Eh, esatto. Cioè, perché la famiglia Mussolini d'Italia non solo vive, ma è gode di ottima salute. C'è Alessandra Mussolini che salutiamo, prossima ospite di dentoria. Caio Giulio Cesare Mussolini, candidato per Fratelli d'Italia e Parenti Mussolini. E adesso c'è un… non mi ricordo che cosa… Un Alessandro Mussolini che gioca ovviamente nella Lazio. Che è un nipote. Tipo il pro nipote del Mico. Cioè, era anche il musicista. Sì. Anche romano, no? Sì. Mussolini? Sì. Che era jazzista. No, questo lo sai solo tu. Sì, sì. Come suona il clarinetto Mussolini. Faceva, sì, col sax, però le canzoni del ventennio. No, questo sarebbe stato bellissimo. Però era un jazzista. Vedi, ecco appunto, il cognome Mussolini in Italia ancora gode di ottima salute. Addirittura in politica puoi entrare chiamandoti Mussolini. Mentre non credo ci siano Hitler in Germania. Mi sono sempre chiesto però se c'è tipo un Hans Goebbels. No, però c'era un leader africano, non so, mi ricordo di dove, che si chiamava Hitler. Si chiamava Hitler, mi pare. Però quelli sono i nomi che danno a volte in Africa, tipo… Poi era tipo il presidente, capito? Anche qui ci correggeranno, ci diranno i nostri… Questo lo googoliamo subito, appena… Vai, googla. No, però la cosa che mi chiedevo è questa. Cioè, in Russia ci sono degli Stalin. Secondo me, sì. Ah, ok, tu dici discendenza. Tu dici il cognome e qui ho detto… Ok. Perché forse è Stalin. Ma c'è Hitler, i pot, appunto, i Franco in Spagna. Forse i Franco in Spagna, sì, perché Franco comunque… Sì, quelli meno controversi probabilmente… Però ho capito, Mussolini, vabbè, poi in Italia lasciamo stare… Diciamo che se c'è qualcosa… Mussolini in Italia non è che sia proprio tipo… Zero controverso. Zero, cioè non è molto controverso. Comunque se vai a chiedere qui a Roma… Se vai a chiedere qui al tuo fianco sentirai delle frasi su Mussolini che non conterranno altro che… Se non altro comprensione. A un certo punto questa cosa ci si retorcerà contro e non potremo più dire no, è uno scherzo, è uno scherzo. Però fino ad allora continuavo a fare lieve apologia di fascismo. Io mi vanto di essere il comico che ha portato il Duce in Rai. È vero. Questo è quello di… È vero. Magari non è vero, però io lo dico. Tanto basta che lo dici e diventa vero. Ed è diventa vero. Però ecco, tu usciresti con… Arriva un ragazzo, perché sai, comunque uno dice… Conosci uno che di cognome fa Hitler. Però usciresti o io o Stefano tu usciresti con una ragazza tedesca che dice guarda, io mi chiamo Quendaline Hitler e il mio prozio era il Führer del Terzo Reich. Boh, sì, tutta la vita… Comunque è interessante. È interessante. La vita è così noiosa, cioè ti capita un discendente di Hitler. E metteresti al mondo il figlio o la figlia della… Certo, se c'è amore. Sì, se c'è amore, sì. La cosa più importante. Allora, in Namibia… È lui, non so se si vede qui. Non si vede, però… In Namibia c'è Adolf Hitler, un politico dell'ex colonia tedesca, omonimo del dittatore nazista, è stato eletto in un consiglio regionale. Mio padre non sapeva quali fossero gli ideali di… Ma come? Beh, perché ogni tanto mi sa che in alcuni paesi africani lo fanno di dare dei nomi molto… Cioè, occidentalizzati che li suonano bene, dice sti cazzi, do il nome che mi pare. Per cui ci stanno… A volte tipo nei mondiali, quando ci stanno le squadre africane, si chiamano tipo Coca-Cola. No, no, ma anche in America. Ho letto un articolo un po' di tempo fa, in cui gli americani raccoglievano delle parole italiane, ma chiaramente però li avevano perculati, cioè con cui chiamare i propri figli, e c'erano tipo Gattara. Ah, che per loro è un bel nome, Gattara. Che per loro era un bel nome, però a me li avevano perculati perché c'erano anche tipo Salcazzo, proprio Salcazzo, quindi… Come Tina Fey, che si chiama tipo Stamattina. Ah, beh, pure con… In che senso? Tina Fey, si chiama Stamattina Fey, tipo una cosa… Ah, ma dai. Però Tina è il diminutivo. Salutiamo Tina Fey, che dovrebbe venire ospite di editoria. Bravo, tutte donne. Anche Kobe Bryant, che si chiama come la bistecca, no? Allora, prima di tutto sciacquali la bocca quando parli di Kobe Bryant. Italiano. No, però c'è questa cosa fichissima degli afroamericani, che si sono discostati dai nomi classici, diciamo anglosassoni, chiaramente, e quindi si inventano i nomi, e quindi c'è questa cosa figa che è tipo Lebron, si chiama Lebron, e tutti i ragazzini che adesso si chiamano Lebron in America si chiamano così solo per lui. Cioè, nel senso, prima lui non c'era nessun Lebron, e adesso ci sono tipo, non so, 400.000 Lebron. Sì, sì, questa è la cosa figa di avere una società giovane. Ma un nome originale è Lebron? Forse Lebron, no, però ci stanno alcuni giocatori NBA che dice, guarda, io sono il primo, perché mia madre mi ha chiamato tipo De Quangelo, e nessuno si chiama De Quangelo, e quindi poi se diventi famoso, e altri 50 ragazzini si chiamano De Quangelo, sono tutti i tuoi emanazioni. Perché non inventiamo nomi nuovi? Perché siamo vecchi. In Italia, perché siamo nel mondo. Nel mondo non fanno altro, scusami, Kanye West e Kim Kardashian. No, i ricchi lo fanno. Come si chiamano i figli? Tipo Ivy, North West. North West. La prima figlia si chiama North, quindi North e West di cognome. Vabbè, ma comunque sono criminali, cioè comunque i bambini prendono in giro per molto meno. Sì, però sai, il figlio di West Kardashian... Secondo me non viene tanto preso in giro. No. Cioè, poi si tuffano i suoi milioni. Esatto. Se c'hai soldi puoi chiamarti anche con un nome. Io ho l'impressione che se c'hai soldi, c'è tutta la vita più semplice. Tanto comunque sarei più che altro talmente una grandissima, con tutto il rispetto, una grandissima testa di cazzo. Sì. Ma non per i soldi, per i soldi e per mamma e papà. Che comunque lui è il John Lennon della nostra generazione. Lei è una grande imprenditrice. Ma io si sono lasciati, lo sai? Eh, va bene, perché lui adesso finalmente abbraccerà il fatto di essere omosessuale. Anche. Perché secondo te è omosessuale? Kanye West è sicuramente omosessuale. Pure secondo te? Non c'è mai pensato. Sappiamo bene a Tintoria che la sessualità è uno spettro, quindi non categorizzerei Kanye West come gay, però sicuramente è anche omosessuale. La cosa che ho capito ho scopato nel 2008. Palma di Mallorca. Quali altri nomi ci stanno? Inventati, nuovi? Allora c'è tutta la famiglia, poi possiamo leggerla se vuoi, c'è tutta la discendenza degli Jackson, che hanno dei nomi bellissimi. Di Michael. Sì, cioè della famiglia, poi perché loro erano tipo... Loro erano in Jackson 5. Jackson 5, quindi erano 5, e poi sono tutti sposati, eccetera, e hanno creato una dinastia di nomi assurdi, bellissimi. Ma pure... Cerchiamo. Condolisa Rice, ex... Che era... Che era Condolcezza, la volevano chiamare, e poi non sapevano scriverlo. Ma voi siete preparatissimi su questo tema, raga? Io sto improvvisando. Hanno sbagliato a scriverlo, e quindi la C è diventata una E, quindi è diventata Condolisa, invece di essere Condolcezza Rice, che salutiamo, tra l'altro prossimo ospite di Tintoria, tra due venerdì, scopata nel 2013. Insieme... Ah no, cani nel 2013. Campeggio. Lei tra l'altro era già sposata, quindi non l'avrei dovuto dire. Però, vabbè, sono passati tanti anni con Lisa. Non facciamo finta che non sia successo. Non posso cercare questi Jackson. Dinastia Jackson nomi. Io non so googlare niente, però... Adesso te lo cerco. Vai, vai, cercate. Forse stiamo tutti a googolare questo podcast. No, no, continuo a parlare io. Voi potete googlare. Tintoria è anche il podcast della googlata. Forum Gravidanza. Forum Gravidanza, quindi affidabile al 2000%. Ragazze, se avete dubbi su di voi, andate su Forum Gravidanza e toglieteveli. Questo non vi creerà nessun tipo di problema. Noi consultori, noi ginecologi. Ginecologi, si dice. Allora, a parte che io già su Wikipedia... Eh, ma infatti... Io c'è... La nipote è Autun. C'è questo. E poi allora è Germain. Albero genealogico, scusatemi. Allora, intanto io poi vi faccio una domanda, a partire da Stefano Rapone, perché ha lanciato questa provocazione. Che nome originale daresti a tuo figlio o a tua figlia? Non lo so. Eh, allora lo vedi? Originale. Eh, originale, perché non so, capito. Magari tu, tuo figlio, lo chiami Goku, ma esisteranno già un centinaio di Goku nel mondo. Però non sarebbe male Goku, così portare Goku in Italia. Goku Rapone. Questo suona pure molto bene. Però tanta... Tanta responsabilità da parte tua. Che stai là, lo guardi tutti i giorni e fai... Ho sbagliato. Ho sbagliato. E Krillin suona male. Krillin Rapone suona male. Invece con Krillin non hai nessun tipo di responsabilità. Comunque mi piace molto questa nuova postazione del podcast, perché soprattutto se state ascoltando in audio non potete sapere che davanti a noi c'è un altro palazzo di otto piani e a volte sul tetto spuntano delle persone che diranno che stanno facendo quello. E noi diremo che stiamo facendo Radio Londra Libera. Si chiamava così, forse solo Radio Londra. Sto confondendo le cose. Continuo a farmi domande. Cioè questo podcast per me è difficilissimo. Non sapevo di cosa avremmo parlato, ma sicuramente sono domande che mi spiazzano. Tintoria è il podcast della difficoltà e che spiazza. Che mette in difficoltà i propri ospiti. Sì, assolutamente sì. Prima gli fa aspettare tre ore al caldo, poi gli fa mangiare un bel piatto di pasta e poi dice, beh, adesso ho delle domande che neanche io so che ti sto per fare. Vai Stefano. C'è Germaine Lejeune Junior, Autumn Joy, Jamie Jackson e poi Tito. Tito? Eh, vedi, e torniamo a Tito che salutiamo. Così se non altro abbiamo chiuso. Comunque vabbè, adesso è troppo lunga questa pagina di Wikipedia su Famiglia Jackson, però vi giuro che loro hanno creato delle cose incredibili con i nomi incredibili. Allora, a questo punto parliamo di una cosa. Secondo voi, Michael Jackson... Wow, ok. Andava, faceva effettivamente, aveva rapporti sessuali di varie declinazioni. Io non credo che il rebel pop penetrasse proprio nessuno di qualsiasi, di qualsivoglia età, ma aveva effettivamente rapporti sessuali con dei minorenni oppure no? Ma davvero? Ok. Sì? Penso di sì. Penso di sì. Però ci pensate, questo vuol dire che comunque si può essere anche pedofili di successo. Non è l'unico. Anzi, forse il consiglio che diamo è se siete pedofili è bene che siate di grande successo, perché così la potete fare franca. Cioè uno comunque pensa che sia un pedofilo, la vita è rovinata. Invece no, può diventare comunque il re del pop. Sì. Questo è di grande ispirazione per i pedofili. Ma l'avete visto il documentario? No, non l'ho visto perché me l'hanno parlato molto male, hanno detto che è molto fazioso. Sì, è molto fazioso. È molto fazioso. Tra l'altro sollevava del... Cioè posso dire tutto? Poi puoi dire tutto quanto. Tintoria è il podcast della libertà. Non siamo neanche su Twitch. Tu sai le parole che non si possono dire su Twitch? No, ce ne sono. Su Twitch non si può dire in nessun caso frocio, in nessun caso puoi dire negro, e fin qui io ci posso anche stare. Secondo me è sbagliato proibirle. Su Twitch io non ti posso dire non puoi dire negro. Non posso dire questa frase. Perché comunque ho detto una parola e se mi segnalano mi tirano giù il video. Io comunque mi dissocio perché hai usato una parola... No, sì, per carità. Che è quello che ci posso anche stare. Secondo me non ha senso proibire proprio l'uso della parola, però ci sta. Però... Vabbè, ma questo poi lo carico su YouTube, no? Su Twitch. Non ho capito, però. E no, e non puoi dire... Io sono d'accordo da tante ore. Per questo uso... Vabbè, comunque. Mi assumo la responsabilità di aver detto questa cosa. E non puoi dire simp, non puoi dire... Simp, perché? Virgin e non puoi dire incel. Perché sono tutti incel, quelli che stanno su Twitch. Perché sono tutti incel, sono tutti simp. Che vuol dire simp? Simp vuol dire sottone. I sottoni sono... Sta per entrarci un piccione in casa. I sottoni sono i simp. Ma i sottoni... Allora, tipo, che ne so, ci sta una su... Una buona... Sul web e tu le scrivi... Ti amo, camminami in testa, fischami in bocca, calpestami... E quelli sono simp. Quelli sono simp. E non si può... Visto che simp è un insulto nel mondo dei simp, non si può utilizzare neanche Virgin, però. Perché anche Virgin... Ma davvero? Ma sei serio? Su Twitch non si possono dire queste cose. Wow. E su Twitch, per esempio, uno dei rischi di tintoria è che Twitch fa un tipo di censura anche un po' argomentativa. Cioè, nel senso... A voi a ridere e scherzare sull'apologia di fascismo? Però, scusa, se uno è un prete... Eh. Vuole parlare della Madonna... Eh. Non può dire... Guarda, se lo segnalano, gli tirano giù il canale e poi lui deve spiegare sono un prete, stavo parlando della Madonna e allora te lo ritirano su. Però comunque sia, intanto ti tirano giù il canale. È una censura abbastanza selvaggia quella di Twitch. Se uno è il capo della Virgin... Se pubblicizzi Virgin... Non puoi. Eh, in teoria basta l'uso della parola per... Se sei Madonna e vuoi parlare delle due canzoni... Assolutamente no. Non puoi fare questa cosa. Assolutamente no. Devi dire like... Non puoi neanche... Esatto. Esatto. Pensa tu. Che brutta canzone sarebbe stata. Esistono sinonimi di Vergine? No. Illibata. Illibata. Che bravo. Fortissimo. Pronto per l'estate. Bart e Zaghi, te ne spondi questa. a luglio sotto al sole Bart e Zaghi, Illibata. Che bravo, Rapone. Che bravo. Otto lettere. No, non so contare le lettere. So di più. Voi lo sapete fare? No. Che io ti dico una parola e tu mi dici quante lettere ci sono. Però Illibata è otto lettere. Ill, l, i, b, ad, a. Mazza. No, non me ne farei altre. Si fa un po' difficile. Podcast complicatissima. Eh, guarda, ti dico. Però, tintoria, quante sono? Sono nove. No. Conta questa notte. No, otto, cazzo. Otto. Però bravo, io avrei detto sei. Beh. Sembra piccola. Sembra corte. Invece tre, sei, otto. Te l'ho detta solo perché ce l'hai scritto gigante dietro la testa. Dall'altro solo questa porzione qua è costata come una punto nuova. Solo la porzione con la scritta. Allora, Irene, tu non ti trovi a Milano perché ti trovi a Roma. Qual è più bella, Milano o Roma? Roma. Ok, perfetto. Quando me lo chiedono a Milano è Milano. Perché poi, se no, che succede? Se adesso rispondevi Milano... Beirut davanti a me. Venivi assalita da dei predoni. Se è più bella Roma, perché te ne sei andata? Come mai ha scelto Milano? Comunque sia Roma ti ha dato i Natali, ti ha dato Francesco Totti, voglio dire, tutte cose... È che faccio molto fatica a relazionarmi lavorativamente con i Romani. Ma forse anche a livello in realtà, ogni volta che sono un uomo romano, ho la netta sensazione che io sia più femminilizzata di quanto non succede a Milano. Ok. Cioè, secondo me, essendo una società un pochino più premoderna, senza assolutamente offendere... No, qui è un complimento. Cioè, io sono molto più inserita in un ruolo di genere di quanto non succede a Milano. Qui diremmo che lì sei meno femminilizzata perché sono gli uomini a essere più femminilizzati, ma questo è un problema di Roma che deve fare dell'omofobia, anche quando fai del sessismo. Ma in che modo si è più femminilizzati? È che c'è questa cosa per cui ti senti che sti uomini ti vogliono proteggere, vogliono ordinare per te il ristorante, ti vogliono venire a prendere a casa ogni due secondi. Cioè, improvvisamente mi sento un vaso di fiori. Oppure, tipo, sul lavoro mi chiamano piccole, le produzioni. Uno dice, va bene, non è che mi offendo. Però, boh, non ti conosco, la prima volta che sono su questo set, ho 30 anni. Non lo so, mi sento un po' più… Ma non, voglio dire, come tutte le cose non credo che sia tipo positivo o negativo. Cioè, una cosa che a me non sono più abituata e mi sento un po' come se mi mettessero davanti una cosa che non mi appartiene, capito? Cioè, mi mettessero tipo un abito addosso che non è tanto il mio. Mentre invece a Milano come funziona? Questa cosa non la percepisco. Cioè, c'è più… C'è un pochino più di distanza, c'è un pochino meno di questa roba per cui tutti sono amici quando lavori. Non che a me dia fastidio, però, poi, visto che non lo siamo di fatto, quindi non abbiamo i benefit dell'essere amici. Cioè, a Roma non è che ci so davvero se non sei amico. Noi però pensavo più sulla sfera privata, non tanto sul lavoro. In che senso privata? E tu dici quando esco con un… Ah, si è più paritari. Cioè, boh, mi capita… Vabbè, poi io sono su questo molto… Cioè, io se vado ad un appuntamento di solito, boh, offro sempre io la prima volta. Cioè, non lo so, non mi sento per niente… Qui, poi, non è che sono uscita con tanti romani, però ho sempre visto una galanteria inutile, nel senso che… Poi c'è alcune persone a cui fa piacere, quindi non è neanche una cosa che giudico. Però, per me, è sempre un po' assurda. Cioè, la trovo un po' assurda. Cioè… Cioè, sì, è come se… Forse è che non mi piace tanto essere corteggiata in questo modo un po' antico. Non lo so, mi sento… Cioè, è come se tu potessi fare tutta una serie di cose che in qualche modo mi convincono a scopare con te. E è un modo di essere trattata che non mi piace, perché penso, tipo… Cioè, se tu mi piaci, questa cosa accade a prescindere e non ho bisogno di essere conquistata con questi gesti galanti. Ok. Sei soddisfatta questa risposta? Puoi continuare a esplorare questa cosa. Cioè, per me… Ora esce fuori il lato patriarcale, però se esco con una ragazza, alla prima volta mi è da offrire a me. Tu dici… Cioè, a te ti darebbe fastidio questa cosa. Quella è una cosa che si può decidere a fare. Di solito io vado in bagno e pago io, comunque. Però non è peggio così. Guarda, no, un po' perché… Poi non so, comunque quando cominci a usare Tinder, ti trovi in mezzo a un sacco di persone diverse e a me piace proprio, come dire, fin da subito mettere delle cose in chiaro anche simboliche. Per cui tipo… Cioè, non stiamo facendo questa cosa dell'appuntamento in cui tu cerchi di, appunto, fare sesso come quella sera tramite tutta una serie di robe per cui, cioè, io evito proprio che questa cosa… Perché nasconde per me sempre un sottile… Poi, ripeto, dipende. Cioè, probabilmente se esco con una persona che è super ok e già lo so e sento delle vibrazioni buone e sono tutti dei corollari che cadono. A quel punto non te ne frega niente. Non me ne frega niente. Cioè, chi se ne frega. Però se c'è, diciamo, tutta quella roba dell'appuntamento, io evito quel sottilissimo ricatto sottostante. Che non è poi per forza… Cioè, non è né esplicitato, né magari consapevole, però attiene a un mondo in cui io comunque sono da conquistare. Ok. Tra l'altro, grande power move andare in bagno e pagare perché a quel punto ribalti la cosa e metti l'uomo in una situazione… Metto il cazzo sul tavolo. In cui non è abituale, fa tipo, oddio, mi hanno offerto, quindi adesso glielo devo dare. Esatto. Quindi è così in realtà che tu su questo voglio scopare, fammi mettere i soldi sul tavolo. E a quel punto poi cosa succede? Che se non te lo dà, tu riuscire a fare, dico, beh, ma come? Esatto. Ho pure pagato la scena. Ho pure pagato. E questo è il futuro che auguro… Ma più che altro, è complicato capire quando fare una cosa o l'altra. Oddio, non volevo… Non volevo renderti… come dire, l'aspetto sistemico si perde il più delle volte, no? Cioè è ovvio che… Perché se no, allora, come dire, nessuna relazione maschio-femmina potrebbe no. Invece, cioè è ovvio che le… diciamo, i ruoli, le aspettative di genere sono una cosa che funziona a livello più sistemico che individuale. Però a me piace interrompere un po' un certo tipo di copione che magari non nelle intenzioni, ma nell'origine nasce secondo un'idea per cui io sono più passiva e tu sei più attivo e mi devi un po' lambire, circuire, mi devi… finché io a un certo punto cedo… Però non è che ne parli prima, cioè a un certo punto tu vai al bagno, c'è questo e quindi dici… Sì, di solito sì. Soprattutto se invito io. Ok. Se invito io, pago io. Poi c'è pure un po' questo, cioè alla fine. Però mi è capitato che magari mi invitassero io dicessi sì per sfinimento e poi pensavo se li avessi pure fatti pagare, che pal… Cioè mi sento tipo… Mi è capitato a un certo punto di essere corteggiata molto da un tizio anche molto ricco e quindi continuavo a inviarmi queste costosissime bottiglie di vino a casa e… Cioè, fighissimo. Però mi metteva anche un po' a disagio quella situazione perché io sapevo che non volevo… Cioè, non… Cioè, non so, mi sembra un po'… Beh, quella deve essere una strana sensazione comunque essere corteggiati da una persona che tu sai che non vuoi… che è una sensazione molto femminile, penso. Beh, no, raga, io ho scorteggiato un sacco di uomini che non mi volevano. Gli mandavi delle bottiglie di vino? No, non così, però comunque, cioè, gli mandavo delle così, cioè, sì… Cosa sono le cosine che si mandano a un uomo? Boh, no, non lo so. Un action figure di One Piece molto cara. Guarda questo Zoro da tre piotte viene dal Giappone. No, però magari dei libri… Guarda, sono un po' in difficoltà perché Zoro è il mio personaggio preferito, però non so se sono pronto. però, tipo, dei libri, delle cazzatine, una canna, cioè, capi? Cioè, delle cose un po' così… E? Eh, no, non cambia… Cioè, oddio, no, non è vero, poi gli uomini in teore li puoi corrompere… Oddio, ma come le donne quando sono sbronzi, cioè, sono vulnerabili… Non si sentivano il dovere di andare a letto con te. Ma erano milanesi o romani, questi uomini? No, anche non italiani, cioè, vari… No, non si sentivano… Poi, a volte… Mi ricordo, ero molto giovane, però io, tipo, a 21 anni, cioè, su me ero veramente molesta, infatti, poi io su tutta la… Cioè, su me c'è una parte di goffaggine insita nei rapporti maschio-femmina che… Da cui uno non può prescindere. Sì. Dopodiché io adesso, da adulta, faccio tutta una serie di cose, cioè, perché poi quella cosa lì esiste, cioè, a volte te la trovi davanti, poi su me, man mano che cresci, te la trovi di fronte sempre di meno, perché sai già un po' chi sono le persone che ti piacciono, ti gravitano attorno persone. L'impaccio, dici, la goffaggine. Sì, la goff… Cioè, ti togli la goffaggine, ti togli anche, effettivamente, la probabilità di incontrare delle persone che hanno un'idea del mondo molto diversa dalla tua, perché comunque… Ti sei costruito una bolla in un modo o nell'altro e finisci là dentro. Quindi è più semplice. Ai confini della bolla. appunto, sono assolutamente empatica nei confronti della goffaggine giovanile. Cioè, anche perché quella è proprio inevitabile. Sì, sì, sì. Anzi, io diffido dei giovani non goffi. Eh no, certo, certo. Impossibile non essere goffi con l'altro sesso in gioventù. E quanto questa goffaggine… Ecco, la cosa incredibile è che la mossa migliore per te stesso e peggiore per l'umanità è trasformare quella goffaggine in fare finta di essere stronzi e quindi poi diventare stronzi. Quello è bruttissimo. Però è la mossa da fare col senno di poi. Sì. Ma certo. Certo, tu stai là tutto in faccia e fai tipo no, sti cazzi. Beh, allora questa cosa posso dire che agli uomini funziona benissimo. Cioè, comunque, dai 20 ai 30 io ho visto certi uomini corteggiati in dei modi che infatti poi a 30 anni basta, fine, perché le tipe si rendono conto che è un coglione, cioè non è misterioso, inaccessibile, è solo un coglione. Quindi, questa è una cosa, ma probabilmente succede anche al contrario con delle donne, cioè con delle ragazze che piacciono molto a 20 anni per certi atteggiamenti e certe robe e poi invece man mano che vai avanti poi secondo me vuoi anche proprio delle relazioni diverse, cioè sai anche quello che ti piace, cioè alla fine prima di capire che cos'è l'intimità, quando è che ti senti bene con una persona, quando è che, cioè è tutta una roba che capisci col tempo, no? Sì, forse sì. Sì, penso di, adesso effettivamente si capisce di più, cioè all'inizio capisci di più se una persona ti piace o no. Diciamo che magari in un periodo… Ragazzi, sono felice che vi ho portati a parlare di sentimenti. Sì, sì, guarda io sto dicendo che poi magari in un periodo della vita in cui uno magari un po' così dice vabbè questa già lo so che non mi piace, però comunque sia magari questa sera non mi ha letto. No, no, certo. Cioè comunque sia uno lo fa e poi dice guarda ho capito solo adesso o stamattina. Ero convinto. Fino a 20 minuti fa quando ansimavo pensavo ancora e adesso ho capito che forse non ti do il mio numero di telefono. Poi il mio numero di telefono vi fa capire quanto questa esperienza non l'abbiamo mai vissuta perché chi è che dà il numero di telefono nel 2021? Mi dispiace non ti do il mio numero di telefono. Tra l'altro ho autocitato il mio monologo. Vado a prendere una birra quindi vi lascio con una domanda di Stefano Rapone a Irene Graziosi la domanda Ma io tra poco devo andare via dico questa cosa perché proprio per ribaltare insomma i ruoli devo fare una ecografia quindi molto femminile da parte di voi infatti sto entrando in contatto con la mia parte femmina dovrò dovrò bere molta molta acqua da qui a un'ora e questa era la premessa per cui non me ne vado perché sono indignato perché si parla di sentimenti ma perché ho un problema medico che sto morendo e questa è la mia ultima apparizione video e quindi questa è anche l'ultima domanda che puoi porre l'ultima domanda che posso farti però non so io qui grazie grazie dell'acqua ecco vedete questa è acqua è il bicchiere della Svizzera questo viene direttamente dalla Dignitas di Zurico c'è un ananas che rappresenta la pillola mortale che mi ha inserito nell'acqua Daniele no che brutta idea dammi mettelo qui dietro infatti non volevo mettere e appoggiarla su un cuscino su un cuscino e no non so da fare questa domanda perché comunque è molto specifica quindi vai è una domanda molto difficile molto difficile un'altra domanda difficile la domanda che faccio spesso è qual è il tuo personaggio preferito di Dragon Ball allora io vi devo dire che non mi è mai stato permesso guardare la tele da piccola vedi lo sapevo però cazzo che figura di merda infatti infatti questa domanda secondo me dobbiamo farla specifica a persone no perché invece si ricrea quella goffaggine in cui parlavamo poc'anzi uno si deve anche mettere fuori dalla propria comfort zone e fare la domanda sbagliata ma poi scusate sembra una bella domanda perché comunque tipo alla fine ti ho dato una risposta comunque da cui partire sì che è quella di non fare più questa domanda no però e allora cosa facevi al posto cioè tu a ora di pranzo che cosa facevi anche i simpson ti guardavi le ho cominciato a vedere molto tardi perché i miei non mi volevano far vedere la tele quindi non facevo niente cioè nel senso boh mi canteggiavo le giochiavo erano pure i miei però poi alle medie è cambiato tutto sì sì alle medie piano piano ho cominciato infatti un po' di simpson me li sono visti tra le medie e liceo poi comunque alle medie e liceo alle medie non tanto al liceo però ho cominciato anche ad andare a casa a pranzo alle mie amiche quindi comunque loro guardavano i simpson uomini e donne cioè c'era tutto un rito che ne pensi di apu ti faccio questa domanda di apu eh no su questo raga io sono molto scopassi no apu scopassi è molto complicato questo discorso perché io non so mai dov'è che inizia un principio di buona educazione e di rispetto e dove inizia un discorso effettivamente di grande sensibilità richiesta che il più delle volte non può essere esaudita da tutti cioè ci saranno sempre degli uomini che boh penseranno a me come cagna capito cioè e o porca o porca però porca è tipo delle due lune è anche un complimento è un complimento e quindi non so c'è una parte di me proprio perché io mi offendo molto raramente quindi o mi indigno o mi scandalizzo molto raramente e soprattutto vedo anche molto l'intento se è in mala fede o in buona fede quindi io penso boh alla fine se valuti tutte queste cose sono poche le volte in cui mi sento proprio presa di punta è offesa quindi penso che in realtà non lo so perché da un certo punto di vista poi se una persona mi dice guarda io sto malissimo se tu fai questo minchia non voglio non voglio farti star male cioè io voglio che le persone si sentano accolte nella società al loro agio cioè quindi è un problema è un problema complicato cioè a un certo punto probabilmente ci dovremmo venire incontro cioè io immagino che questo sia questo momento di grande rivalza che parte dal linguaggio e dalle rappresentazioni di fatto perché non c'è poi una spinta politica soprattutto beh in America c'è perché poi piano piano 50 e 50 ormai neri o comunque non bianchi e bianchi quindi chiaramente e in Italia deve ancora succedere questa roba qui infatti noi sul discorso di Apu non ti sembra che Ah ok no Apu è il personaggio indiano dei Simpson che è stato che è diventato innanzitutto come rappresentazione un po' uno stereotipo degli indiani americani e poi esatto e poi è stato doppiato per tutto il tempo da un bianco che faceva l'imitazione degli indiani in America sì degli indiani in America sì certo adesso sto pensando non gli indiani d'America offensivo non è che offensivo nativi americani esatto Apu un nativo americano no pensa non è stato un problema fino ad adesso che hanno detto guarda fino a pochi anni fa che hanno detto non va bene che sei un bianco a fare quella cosa ma su quello che dicevi tu non ti sembra che noi noi italiani stiamo andando incontro a una parte che in Italia non c'è cioè nel senso su questa cosa del doppiaggio di Apu noi stiamo andando incontro a le rivendicazioni se vogliamo giuste delle minoranze etniche americane che dicono guarda adesso ci sono gli indiani in America e quindi se c'è un indiano fatelo fare a un indiano noi che cioè noi stiamo andando incontro agli indiani americani allora su questo sono molto d'accordo cioè su me si è proprio creato uno scollamento tra Stati Uniti e Italia nel senso che per qualche ragione pensiamo che la nostra cultura e la nostra società sia come quella ma io mi ricordo a un certo punto a un certo punto per 20 dopo la morte di George Floyd avevo chiamato questo che pensa doveva venire ospite di dittoria il mese prossimo George Floyd vabbè e ho invitato questo americanista che insegna a Sciences Po italiano super bravo capo cioè tipo il direttore degli dottorati lì per parlare appunto di come è strutturato il razzismo negli Stati Uniti da un punto di vista anche urbano storico no cioè perché poi gli Stati Uniti sono interessantissimi da questo punto di vista e sotto mi hanno chiesto ma non potrei trovare un professore nero americanista italiano eh no probabilmente non esiste non potevo non potevo e poi mi viene un po' in mente quella roba di Simone de Beauvoir per cui sembra che solo i corvi possono parlare dei corvi cioè non è certo se io mi metto a inventarmi così adesso cominciasti a parlare come se fossi nera e dicendo un sacco di cazzate ok ma più che altro sarei imbecille o idiota però cioè io non credo che sia così voglio dire in teoria mi piacerebbe che se tu sei bianco puoi inventarti un bellissimo romanzo che abbia come protagonista una persona nera o transgender cioè come ha fatto per esempio boh eugenides mi viene in mente con middlesex che è uno che si è inventato la storia di un ermafro di cioè pure philip rot l'ha fatto ma forse non lo dobbiamo dire non diciamo il titolo così poi magari quando lo leggete capite va bene no per cui è un casino è molto interessante cioè secondo me è una delle cose più vive proprio vitali che ti fa pensare alle robe quello che sta succedendo adesso secondo me poi non c'è neanche un giusto uno sbagliato assoluto no cioè valuti volta per volta io cioè secondo me poi se sei una persona boh educata e rispettosa ma rispettosa non tipo moralmente rispettosa proprio cioè che che ascolti boh che ascolti le istanze delle altre persone e le valuti secondo me va anche bene anche perché poi si sente un sacco di rumore dai social ma poi si incontri le persone nella vita vera cioè non è che le persone sono come sono sui social network secondo me zero non sono per niente come sono sui social network però è vero che c'è questa cosa che facciamo facciamo faccio anch'io che ci rapportiamo ai problemi americani come se riguardassero noi e soprattutto noi ci medesimiamo nei bianchi americani perché noi diciamo vabbè noi siamo bianchi la nostra cultura è quella però cioè bianco americano è molto diverso da bianco italiano e quindi prendere quella posizione e medesimarci in quella cosa là è sbagliato perché quello è un altro gruppo cioè nel senso del resto però come fai è difficile perché adesso tu hai Netflix prende video tutta la letteratura diciamo se sei una persona a cui piace leggere di cultura contemporanea eccetera non puoi leggere pubblica ma puoi leggere New Yorker cioè è difficile perché poi tutta la cultura che consumi e quindi tutte le persone che ti rappresenti nella testa sono di un altro posto e questa roba qui fa sì che poi effettivamente si crei questo scollamento cioè è difficile io lo capisco anche dal punto di vista degli attivisti cioè che capito magari qui sono pochi è più difficile e lì vedono che c'è una società in cui invece delle istanze in cui credono sono ascoltate e quindi penso sono ascoltate e sono rappresentate perché qui c'è proprio un problema appunto di rappresentanza noi qui appunto noi abbiamo invitato Oiza che ha scritto il libro Corpi Estranei come in America essere neri vuol dire una cosa in Italia è diverso non ci sono non c'è la comunità afro italiana con la storia di quella comunità con la loro cultura qui ci sono alcuni italiani che sono neri e quindi è completamente diverso anche per loro e così come noi non ci dovremmo identificare nei bianchi americani se sei nero italiano non ti identifichi con gli afro americani perché poi lo fai però cioè se comunque è un'altra cosa e poi c'è anche un problema di riduzione a un'apparenza estetica cioè sempre tornando al discorso l'unica caratteristica cioè in teoria secondo me uno dovrebbe partire dall'idea che poi ovviamente non si verifica nel mondo reale quindi non so però per cui cioè io posso essere tanto come dire vicina da un punto di vista boh di simpatia empatia di sensibilità a una persona nera tanto quanto cioè non so io penso che un po' il razzismo si placherà un minimo quando veramente saremo tutti più o meno dello stesso colore e questa cosa avverrà cioè nel corso dei secoli è una cosa a un certo punto ci saranno altre forme di discriminazione e io poi in fondo penso anche che questa roba della rappresentazione dell'identità è anche una roba che sposta dal problema della classe cioè perché poi è quello cioè l'altro giorno leggevo quest'articolo vabbè del Los Angeles Times che sono pazzi appunto in cui dicono ah sono stati vaccinati i poveri ma cosa è perché non sono ancora stati vaccinati i transgender e tu dicevi ma che categoria è cioè mica è una categoria nel senso cioè nel senso se ci sono i transgender poveri che sono più vulnerabili entrano nella categoria poveri mi piace una categoria a parte perché voglio dire allora appunto anche la mamma di Kim Kardashian deve essere vaccinata come priorità insieme ai poveri cioè perché qual è il punto lì quindi poi è anche difficile non fare questa questo accostamento per cui tutti i neri tutti i transgender tutti i bianchi sono uguali in quanto bianchi è assurdo poi io capisco perché ho anche parlato con tante persone che se tu sei nero in questo momento in Italia appunto ne parlavamo prima c'è questa ragazza Nadisha Uyangoda che ha scritto questo libro l'unica persona nera nella stanza in cui dice comunque se cresci nero in Italia sei sempre l'unica persona nera nella stanza e questo fa sì che tu attiri tutta una serie di ma banalmente sguardi cioè perché perché sì perché sei l'unica persona attenzione domande dopodiché appunto anche lei nel libro ha un tono molto accogliente molto molto ragionevole anche nel senso che e poi secondo me questa cosa in fondo non è colpa di nessuno non so come dire cioè ovvio poi c'è una dei razzisti c'è una delle persone brutte nel mondo però a livello della società a un certo punto secondo me in Italia siamo siamo sempre stati tutti bianchi a un certo punto se l'unica persona nella stanza diceva guarda c'è una persona nera e poi poi io penso appunto eppure lei però per esempio faceva un discorso di classe cioè diceva ok in Italia comunque l'otto marzo tutte ascioperà eccetera poi però cioè magari c'è la madre di una persona nera immigrata che comunque intanto te pulisce casa mentre tu vai a manifestare quindi poi pure lì come si intrecciano le cose cioè è un discorso complesso e secondo me il discorso della rappresentazione sta molto spostando l'attenzione dai poveri sì certo dal problema dal problema nel classe io sono sono d'accordissimo ma io sono anche d'accordissimo perché sono bianco e comunque sia piccolo borghese quindi non sono nessuna nessuna delle categorie sotto in nessun caso della vita mai forse si parla di capelli cioè posso anche andare nero nel tempo e nessuno mi dice niente nessuno mi dice mai niente esatto se sei di un altro colore esatto può capitare vedi incredibile va bene io ci saluto ciao che vado a fare questa ecografia mi raccomando è stato un piacere conoscerti ti ricorderemo come un bravo comico e una persona ok a presto ciao ciao allora adesso mentre Stefano una musichetta tristica che me ne va ma che musichetta è scrubs sì sì a un certo punto ogni tanto sempre le mutate di scrubs c'era e faccio così come se la sapessi sono più forte ok ok adesso siamo arrivati a un altro momento fisso di tintoria di cui di solito avviso prima agli ospiti ma che ma che non ho fatto perché stavamo cucinando delle orecchiette con le cime di rapa che è il seguente tintoria non so se sai che è il podcast della legalizzazione quindi io prima chiedevo a tutti gli ospiti cosa ne pensassero della legalizzazione delle droghe leggere ma ho smesso di fare questa domanda perché non mi dava soddisfazione perché tutti quanti gli ospiti mi davano la stessa risposta cioè sono a favore sono a favore anch'io e quindi grazie sono molto contenta anche di quelle pesanti allora poi parliamo di quello però prima ti volevo fare questa domanda che è la domanda che inizia a fare a tutti quanti che rapporto hai se ce l'hai con la marijuana e se ce l'hai se noti una correlazione tra marijuana uso della marijuana e creatività allora come tu sai bene perché noi abbiamo anche fatto un podcast su questo tema tra l'altro mi dispiace un sacco salutiamo Paolo che ho risentito recentemente sta bene sta bene adesso ripartono ok e ci vogliono ancora ci vogliono ancora vediamo in che modalità ripartono scusate hanno riaperto da una settimana intanto ricominciano a spillare birra e poi si attiva tutte le cose comunque allora nel corso io ho cominciato a fumare tardi sì cioè a 25 anni circa e all'inizio mi è piaciuto tantissimo era tutto bellissimo i miei film erano bellissimi leggevo tantissimo il mio cervello era effettivamente acceso e poi invece a un certo punto a parte ho cominciato a fumare veramente tanto cioè veramente tipo 15 grammi al mese da sola beh ma i coglioni eh sì tanto ero anche molto depressa sì e a volte mi chiedo se quel discorso della creatività per me non fosse legato a questa roba dell'essere proprio super triste nel senso che comunque quando ero tristissima ero apatica e comunque quella roba lì mi dava una botta di qualche tipo sì quindi sì ero più creativa tipo adesso a parte che non mi fa più lo stesso effetto ok non neanche mi fa venire le pare proprio preferisco non essere fatta ok e cioè non è una roba che mi diverte più tanto poi in realtà pure qui adesso da qualche parte ho anche adesso ho comprato il vaporizzatore con l'olio ok e l'olio dove lo prendi? da un tipo ok che ce l'ha ok o il gai sì e in realtà quello a volte mi sembra che quasi non mi faccia effetto cioè mi sento perché quanto THC c'ha questo olio? no no tanto cioè tanto però beh forse perché fai un continuo una volta ogni morte di papà e secondo me questo fa anche salire la tua tolleranza in qualche modo fai micro dosing è come quelli che fanno micro dosing col veleno di cobra così poi all'SD io e quindi non ti va tanto di essere fatta no c'è quasi per niente sono tornata di più all'alcol che però come va perché per esempio me l'alcol adesso post pandemia lo gestisco molto molto peggio mi fa stare molto peggio lo gestisco peggio nel senso che non riesco a smettere di bere sì però arrivo molto prima al momento in cui c'è tipo adesso già al terzo spritz già al terzo spritz finisco che dico ok terzo fino al terzo è tutto ok poi finito il terzo è tipo quarto quinto sesto settimo non smetto più e poi crollo a dormire mi sveglio alle 5 per la mattina per fare pipì e non mi riaddormento più questo però per me prima non era così perché io bevo per lavoro questo è quello di fare comicità io bevo di lavoro allora io mentre mi facevo tante canne ero astemia quindi per me non so come dire non mi piacere anche troppo mangiare c'era un momento appunto di tristezza mia perché non volevo più fare nulla di attivante ma solo deattivante e adesso invece ho ricominciato a bere anche perché sto con una persona che beve ma non è un alcolista però comunque è uno che beve provenienza regionale di questa persona? Lombardia ok e quindi cioè adesso pure se io rimango a casa la sera se lui si apre una bottiglia di birra me la apro anch'io poi diventano due perché magari stiamo chiacchierando benissimo cioè quindi sai in due poi se si crea quella situazione un po' intima cioè ci passi la vita e in realtà no anche io in realtà come te faccio ieri sono uscita per un appuntamento di lavoro ho avuto tre spritz poi per me rispetto a te c'è comunque sono andato un metro e cinquantasei quindi comunque tanto e poi sto male anche perché ormai ci metto in mente tanto prima di sbronzarmi che non è neanche che dici vabbè almeno mi diverto mi pesa e basta vorrei provare a smettere ma poi in questo momento non ci riesco io sono anche un po' fatalista su questo penso sempre tipo no penso tipo ci saranno dei momenti in cui berrò di meno dei momenti in cui berrò di più cioè nella mia vita è sempre stato così prima o poi quindi in questo periodo è più l'alcol sì è più l'alcol della medica cannabis ma invece prima hai detto staresti favorevoli anche alla legalizzazione delle droghe pesanti che secondo me è un argomento molto molto interessante che dialetticamente mi convince sempre però poi praticamente penso che il percorso comunque sia prima si debba concentrare su intanto legalizziamo la marijuana perché la teoria poi della legalizzazione delle droghe pesanti c'è comunque nel senso tu controlli una cosa che in questo momento non controlli la togli la criminalità organizzata ci sono gli stessi ragionamenti che funzionano il problema è che poi tu stato il vantaggio di legalizzare la marijuana è che non morirà mai nessuno di marijuana mai e il problema di legalizzare le altre droghe è che un giorno te more uno di una droga che gli hai venduto però col fumo succede in continuazione sì 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 però non è che c'è tipo muore anche con l'alcol succede effettivamente con l'alcol non ce ne frega niente e succede in continuazione perché gli incidenti il sabato sera non è che uno dice come mai hanno fatto un incidente perché erano ubriachi cioè poi non so il problema è che io non so quanto questa cosa pragmaticamente potrebbe funzionare nel senso che comunque se tipo se legalizza la cocaina vuol dire che la deve iniziare a produrre cioè quello è incredibile che l'Italia si deve iniziare a fare la cocaina o l'eroina come fai la vendono le farmacie e perché dovrebbero darla a qualcuno e non a qualcun altro come funziona quindi non lo so diciamo che a livello teorico sono d'accordo sia sull'erba sull'LSD un po' sulle droghe da discoteca perché comunque secondo me DMD ne muoiono più perché è tagliato di merda disinformazione che non perché è una roba cioè quindi diciamo le droghe quelle che non ti danno dipendenza hardcore quindi io tranne cocaina eroina che non saprei come gestire tutte le altre invece le legalizzate cioè direi guardate facciamo informazione si fa si beh poi ci stanno l'LSD e i funghi che adesso non mi ricordo quale paese ha legalizzato i funghi beh non sono sempre stati legali tipo in Olanda no erano tollerati e poi hanno smesso di tollerarli perché poi l'Olanda ha questa cosa pure per l'erba che la tollerano loro però è illegale è abbastanza malato in realtà il sistema olandese è piuttosto piuttosto sbagliato secondo me approcciarla in quel modo e adesso forse negli Stati Uniti uno Stato ha legalizzato i funghi o comunque è passata è passata la legge poi non li hanno ancora legalizzati però devo controllare è perché quello là io pure sono favorevole pur non essendo uno psiconauta di alcun tipo cioè nel senso ho avuto un'esperienza con con l'LSD e che è stata divertente abbastanza anche contenuta ma appunto non ho mai non mi sono mai avventurato oltre e magari per un po' lo farò però quelle là per esempio sono droghe però è proprio diverso non è neanche quella roba lì di fame esatto non c'è la scimmia non sembra una droga nel senso la droga c'ha tutto quell'aspetto negativo che c'è anche la marijuana che tu potresti drogare diciamo e facci altri tretti che invece le droghe psichedeliche non hanno assolutamente senti questo microdosing dell'LSD aspetta intanto che ti chiedo questa cosa poi giro la telecamera come uno come se lo sente perché se uno non è tra i tuoi amici più stretti di Instagram magari non lo sa è vero che tu ci sei giusto ma allora in realtà non è che faccio microdosing nel senso che lo prendo talmente spesso no nel senso che no lo prendo talmente spesso e qualche volta cioè lo prendo e tipo mi fa anche poco effetto perché credo di essermi abbastanza assuefatta assuefatta no in realtà ho iniziato ho passato così tutto tutto da settembre a dicembre ho preso tantissimo è stato bellissimo ma tipo che ti svegli la mattina boh tipo che una volta a settimana ok il mio ragazzo ci prendeva mezzo cartone beh comunque mezzo manco troppo micro no infatti no poi abbiamo iniziato con un quartino magari con un per me è che cioè il microdosing di fatto credo che se lo senti lo senti sul lungo periodo eccetera e comunque cioè a un certo punto lo facevo tutte le settimane quindi cioè comunque è stato figo in realtà anche lì è divertente perché poi pure lì ho dei momenti in cui cioè mi sembra che le droghe per me siano molto ondulatorie cioè vanno per periodi c'è pure l'LSD tipo adesso è un momento in cui mi va di meno perché sono molto più concentrata su delle cose quindi mi sento meno a mio agio nel perdermi e però cioè lo rifarei lo rifarò cioè ce le ho nel frigo sono frigo o freezer perché questo è un frigo basta che siano all'ombra al fresco e all'ombra credo non lo so anche io tutti mi dicono nel freezer nel freezer mi tengo in frigo vanno benissimo da mesi quindi no io veramente quello è un argomento su cui su cui non so davvero niente tra l'altro un'altra cosa che la pandemia ha fatto per me almeno è stato quello di togliermi la cioè ho un sacco di voglia di fare festa e però mi ha proprio tolto la festa cioè nel senso io non faccio una festa da da prima dell'inizio della pandemia perché poi pure l'è stata scorsa quando sembrava che fossero liberi tutti poi però feste feste non ce ne sono state poi una sera siamo finiti a un rave al parco di acquedotti ma dai quello è stato molto divertente però comunque non era cioè non so come dire non era una festa non è che dicevamo è una festa facciamo tutti i miei grazie ci pare è una festa perché comunque metà le persone c'è una mascherina e quando stai proprio in mezzo alla gente dice beh però sono un coglione cioè se sto in mezzo a 20 persone certo che non conosco sono comunque un coglione perché comunque c'è una pandemia sì 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 e quindi visto che nel frattempo ho compiuto 30 anni e quasi 31 quando? 30 l'anno scorso a luglio 31 ok e quindi la fine dei 20 anni che canta Motta che salutiamo certo io l'ho fatta in pandemia e invece capito uno dice c'è questi anni e uno dice a berni vado a fare festa e quindi sono rimasto con questa voglia di far festa che ancora me la tengo perché pure quest'estate poi voglio vedere queste feste che si fanno non si fanno guarda ti capisco l'unica cosa è che io sono in un momento di appunto come ti dicevo prima sta piovendo piove sul mio calciotto è un momento di grande concentrazione e quindi in realtà in questo momento sono quasi felice che non si possa fare festa cioè il fatto che tipo posso ancora stare a casa a scrivere quello che devo scrivere e tipo non c'è un'altra cosa che cerca di tentarmi adesso tipo delle mie amiche stanno da Ibiza e mi hanno invitata ma Ibiza come si pone quest'anno perché due mie amici sono l'anno scorso locali chiusi ma non a ballare cioè loro tipo Ibiza l'energia femminea delle montagne Ibiza l'energia femminea sì sì e addirittura le odiate perché mi hanno chiesto di andare e io ho proprio pensato io in questo momento non sono nel mood di fare questa cosa di spensieratezza perché non lo sono cioè non sono spensierata e quindi in realtà per me cioè mi manca tantissimo l'idea però tipo voglio finire di fare alcune cose che voglio fare perché io mi immagino che a un certo punto cioè proprio avrò un rilascio di stress di concentrazione sarà bellissimo fare tutto ma adesso per me ancora non lo è quindi sono un po' attesa ok quindi non c'hai non c'hai voglia di fare festa ma beata te quindi stai lavorando oh è caduto un peso ci siamo tolti un peso avete capito chiedo scusa a tutti intanto mi ha chiamato mia madre e vado a prendere le domande dal pubblico quindi non c'hai voglia di fare festa no vedi bravissima no no ma non cioè è solo perché è viziata dalle circostanze non per ma ci sta allora andiamo a prendere tra l'altro diamo anche questa questa versione completa di fatti io avevo fatto una storia dove dicevo fate le domande per le migrazioni poi col problema tecnico che si era posto ho cancellato la storia e poi tre minuti dopo abbiamo deciso no facciamolo anche perché appunto Niccolò ha tolto questo fruscio che voi non state sentendo a meno che non siate bellissimi cioè siete proprio che fregni se sentite questa storia quindi l'ho rifatta quindi chiaramente ci sono meno domande ma te le vado comunque a leggere ah questo per entrambi qual è il vostro libro preferito da bambini ciao vi voglio bene qual è il tuo il mio libro preferito da bambino e da adulto è le 13 vite e mezzo del capitano Walter Morse è il più grande libro mai scritto se non l'avete letto leggetelo qualunque età abbiate perché non esiste una descrizione di un mondo alternativo così bella e così ben fatta e così approfondita e così avvincente pur essendo una cosa anche quasi scientifica specie per specie pianta per pianta un bel malloppone e poi se una volta che entri a Zamonia puoi avventurarti per tutti i libri là che ha scritto lui gli ultimi due che è non mi ricordo quella sui sogni insomma è la calappia strega meno belli devo dire che non li ho neanche finiti però le 13 vite e mezzo del capitano orso blu Rumo e la città dei libri sognanti trilogia di libri wow tu preparatissimi beh vabbè guarda non mi aspettavo questa domanda ma pure se mi chiedevano qual è il tuo libro preferito la risposta era la stessa quindi no secondo me da piccola piccola abbiamo ah Roald Dahl sicura le streghe le streghe perché le streghe poi aveva anche tutto mi facevano anche proprio paura tutti gli stratagemmi delle streghe di mettere i bambini nei quadri sai che le streghe non me lo ricordo dai lui che diventa un topolino non ti ricordi le streghe che lo trasformano in un topolino sulla crociera di non aver letto le streghe Roald Dahl imbarazzante io Roald Dahl l'ho letto vergognoso però forse le streghe no perché comunque si sa che erano femmine eh no è certo io io ho Danny o la magica medicina e queste cose qua quindi le streghe bellissima risposta comunque un saluto a Roald Dahl che dovrebbe venire è vivo Roald Dahl no però Quentin Blake sì salutiamo Quentin Blake se solo sapessi chi è l'illustratore ricordi eh sì era Quentin Blake allora salutiamo Quentin Blake che infatti ora che ci penso dovrebbe venire ospite di interia ad agosto allora come stai questo non va bene oh qua ci chiedono però a questo punto credo sia un public come sta andando con il libro è una persona con cui lavori che sta scrivendo un libro oddio chi è no non lo so però mi faceva ridere se era l'editore come sta andando con il libro bene sta scrivendo un libro che libro sta scrivendo un romanzo esce tra un anno ma già sai quando esce quindi cioè perché ti serve a motivarti a esserti data una scadenza no perché sono a terza stesura e a un certo punto il mio editore mi ha detto ok zia adesso ci siamo firmiamo questo accordo facciamo questa cosa e tu tra un anno esci ed è giusto beh non ci dire niente poi se ti andrà di presentarlo a tintoria però prima lo leggo perché sennò ci parli di un libro che io non ho letto vabbè poi c'è una persona che chiede il tuo rapporto con Mario è il tuo personaggio preferito di Dragon Ball però adesso non va bene ah ok ci sta ti piace la stand up comedy non sono che ti faccio questa domanda allora mi piace cioè mi sono piaciuti dei giganti non sono un'appassionata di qualunque cosa ecco c'è tutto adesso quello che mettono su Netflix non me ne frega un cazzo mi piace molto lui si che mi è stato portato via Ricky Gervais mi ha fatto sempre abbastanza ridere qua c'è la birra Ricky Gervais mi ha fatto abbastanza ridere se penso a boh Bill X mi piaceva ah Sara Silverman piace piaceva però non sono piace ma non a te mi piace ho sentito questa domanda no no mi piace mi era piaciuto lo spettacolo quello Jesus come si chiamava con gli anni 90 ok non quello che sta su Netflix no no sta tipo su YouTube a spezzoni e Jesus is magic Jesus is magic e bello e quindi penso che mi c'è che mi piaccia in un modo un po' ingenuo cioè se sei bravissimo ovviamente mi piace perché tipo scavalchi tutto quel mondo di conoscenza per cui ti piacciono anche le citazioni l'ambiente il mondo cosa cioè questo ok un po' come con i libri no cioè magari ti piacciono cinque libri che sono molto sì senza sapere ah questo è un autore che sa questo genere che appartiene a questa corrente perché è un bel libro esatto senti comicità italiana non voglio arrivare che tu dica Daniele Tinti però però Daniele Tinti vai allora no Valerio Lundini ovviamente mi piace molto poi mi piace perché comunque lui fa una cosa che non è stand up comedy che è una cosa che apprezzo nel senso che è uno che si è trovato la sua cifra non riporta in Italia un modo di fare comicità che non è nostro non che ci sia qualcosa di male però mi piace il fatto che sia uno che è completamente cioè si rifà molto di più delle cose italiane di cabaret e mi piace molto lo sgargabonzi mi piace molto io penso lo sgargabonzi sono andata tanto e tanti anni fa a un certo punto a sentirlo a San Lorenzo e ha fatto un monologo su delle carote che molto dure che mangiava Nicole Kidman che tipo cioè si incastravano mentre lei cagava e e ci pensi ancora io allora ti dico non ho mai riso cioè io ero piegata in due con le lacrime ed è una cosa che non mi succede tanto cioè ed ero morta quindi lui mi piaceva molto e beh sono due buone risposte sì bene bene senti e poi chiedono questa è una domanda un po' banale ma passi più tempo a leggere o a scrivere eh no a scrivere per lavoro ma infatti ti posso chiedere una cosa ma come te va a descrivere un libro cioè ma che ti ha detto questa è una cioè che ti ha detto la testa ah mo scrivi un libro che è una cosa così poco pesante è che cioè comunque quando fai l'autore scrivi sempre per gli altri sì quindi tutta la tua lingua il tuo modo di essere cioè è sempre votato a qualcosa che non sei tu e e quindi volevo per una volta avere il controllo su la mia lingua quello che succedeva le cose facevano i personaggi cioè volevo e poi sai è anche una roba di cioè mi rende anche felice cioè è difficilissimo però è anche una cosa che mi rende felice in un senso molto esistenziale cioè alla fine se no come persona diciamo termine tremendo che fa creativa cioè che ha un impulso a fare delle cose una content creator a tutti gli effetti no però che fai cioè alla fine io lavoro per 20 mi piace un sacco sono stata molto fortunata eccetera lavoro per altre robe ti chiamano per scrivere il programma le cose però cioè sono tutte cose che comunque fai di lavoro non so come dire cioè lavoro mi fa schifo comunque cioè se tu mi dicessi tieni questi sono dei soldi con i quali tu puoi campare senza lavorare mentre ti direi probabilmente non farei il 90% delle cose che faccio probabilmente i libri scriverei comunque ok quindi questo ok allora una domanda su proprio il momento in cui uno si siede a scrivere perché io l'unica cosa che scrivo effettivamente è i monologhi che però scrivere un libro o comunque sedersi per scrivere una cosa lunga e scrivere un monologo sono due cose molto diverse però una cosa comune a molti comici e molte comiche con cui ho parlato è che è il momento più brutto quando ti siedi a scrivere cioè proprio i primi dieci minuti tu ti siedi e stai là a fare tipo io non faccio ridere scrivi una cosa e quella cosa non fa ridere e quindi non lo fai cioè nel senso il primo istinto è quello di dire tipo io mi devo alzare da qui subito perché quando ti siedi non fai ridere quando scrivi su un foglio non fai ridere per niente e invece poi se tu ti fai violenza e continui a scrivere per più di dieci minuti poi magari dici ah però guarda questo pensiero che ho avuto può essere che diventi qualcosa e magari scrivi un'idea di una cosa che poi un anno e mezzo dopo diventerà una battuta e questo sentimento che nel momento in cui ti siedi pensi devo andarmene da qui ce l'hai oppure no? no c'è ci sono dei giorni in cui ti fa tutto cagare tutto quello che hai scritto eccetera però è come quando c'è un giorno ti guardi allo specchio e dici boggi sono più cessa di ieri e no non ho questa cosa qui poi comunque io scrivo c'è più o meno tutti i giorni almeno due ore al giorno due tre ore e quindi solo del libro perché poi c'è tutta la parte cioè io passo davanti al computer a scrivere durante tanto tempo nella mia vita quindi no non ce l'ho tanto quello che dici dell'idea è molto vero cioè io credo che comunque molto spesso quando anche allora io mi forzo anche a scrivere cioè anche il giorno in cui non me ne frega niente a meno che proprio non ho l'impuzzo di gettare il computer dalla finestra allora esco a fare una passeggiata in linea di massima ne metto lì scrivo poi magari uso il 10% nel libro di quello che ho scritto quel giorno però a forza di 10% 10% c'è un mio amico che mi dice sempre alla fine se scrivi mezza pagina al giorno cioè comunque dopo un anno hai 180 pagine capito di più no 180 180 182 e mezzo ok senti e invece una domanda è nel momento in cui uno si fa una sessione di scrittura così lunga perché poi io anche adesso che ho ricominciato a scrivere che con la pandemia avevo smesso e adesso ho ricominciato a scrivere quindi tutti i giorni scrivo guarda dirò una bugia 20 minuti ma non è vero ok è molto meno di così ok però cioè comunque sia se in quei 20 minuti scrivo una cosa che fra tre anni è diventato qualcos'altro quella è la mia cifra 20 minuti che perché poi appunto io scrivo monologhi quindi comunque è più corto cioè nel senso io scrivo cose più corte però comunque sia se in quei 20 minuti cioè diciamo 20 minuti scrivo sto seduto al computer scrivendo 40 minuti poi in realtà scrivo 20 se là in mezzo comincio a rispondo al telefono whatsapp faccio qualcosa li perdo no no infatti allora se una volta gli scrittori non c'erano whatsapp e quindi dice adesso sto lavorando e andavi in un posto dove non avevi il telefono e nessuno si chiedeva se tu fossi vivo o morto era normale che tu fossi irraggiungibile e stavi quattro ore a lavorare sul tuo libro e nessuno ti poteva contattare e a casa tua cadeva un meteorito e tutti morti e tu nessuno dice purtroppo non c'è modo di contattare questa persona invece adesso se tu dici amo tre ore mi metto a scrivere però se in quelle tre ore chiedo poi magari sti cazzi ti arriva il whatsapp rispondi whatsapp comincia una conversazione su whatsapp poi dici vabbè mi faccio una passeggiata almeno ora tiro fuori il telefono vado due secondi su instagram quella roba ti toglie cioè ti tira fuori dal mood scrittore scrittore il mood quindi maschile secondo me per me è molto più di micro cose la mood che salutiamo è molto più di micro cioè magari io che ne so devo scrivere una scena ah di solito se è una scena lunga la suddivido anche cioè io faccio delle cose tipo allora non scrivo mai tutto quello che devo scrivere in un giorno cioè me ne lascio sempre un po' per il giorno dopo come quando corri come una serie tv no come quando corri è presente che tipo non puoi cioè ti conviene molto di più fermarti prima di aver raggiunto il tuo limite di chilometri il giorno dopo puoi rifarlo e ti senti anche più in forma quindi è con la scrittura uguale cioè io l'alleno come se fosse tipo un po' un muscolo quindi e soprattutto è molto bello perché così la mattina dopo ti svegli che sai anche già dove sei arrivato e che cosa deve succedere e cosa è un'ottima idea è la prima volta che penso che a questa cosa sia per la corsa che per la scrittura per fortuna per la scrittura non arrivo mai neanche a rompere il primo fiato diciamo ok non mi allaccio neanche le scarpe già sono in piedi a posto si è scritto bravo Daniele bravo 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 e quindi cioè mentre sto scrivendo una scena se va tutto bene non guardo neanche il telefono cioè poi sto fissa a fare questa cosa se invece va male non c'è niente di male cioè secondo me devi anche uscire da te stesso anche perché veramente quando scrivi ma forse quando fai qualunque lavoro di concentrazione cioè se non sta andando bene non ti piace c'è la sbrocchi cioè tipo proprio ti fa ma dici questa è una merda io non so fare niente cioè ok ultima domanda sul tema e forse anche ultima domanda abbiamo fatto un'ora e qualcosa come stai messa perché una cosa che mi affascina molto almeno sia per la scrittura comica che immagino ancora di più per la scrittura di libri quando si avvicina alla scadenza come reagisce la creatività alla scadenza però se tu c'hai la scadenza tra un anno stai messa bene o c'hai avuto scadenza e ti dicevano guarda mancano queste pagine e tu stai a questo punto qui il mio problema è quando non ce l'ho la scadenza io non so come le persone riescano a fare le cose senza scadenza cioè io per quanto avessi iniziato senza scadenza eccetera eccetera comunque da quando c'è la scadenza sto scrivendo meglio più velocemente mi ci impegno molto di più quindi per me le scadenze sono fondamentali come erano all'università cioè io io non faccio niente cioè se tu mi dici non c'è un tempo ok niente mi imbarca esatto va bene va bene complimenti sei arrivata fino alla fine il sequestro di persona hai visto difficilissimo è il podcast più difficile d'Italia è vero non lo sapevi ma così è è vero podcast più difficile d'Italia allora adesso riprendiamo un'antica tradizione tu resta qui devo solo trovare il pennarello devi firmare in diretta questo coso che costa come diciamo l'ala ovest dell'Uvro senza i fangirai è proprio così ok allora ci vorrebbe stare questo è troppo così questo non va bene una volta era più automatizzata mi piace quella col cappello però è è una tipa ok dove mi pare tipo qua dove vuoi guarda con la data oggi credo sia l'11 sì questo vai te lo tengo e abbiamo ripreso quindi questa antica tradizione di firmare il poster che chiaramente si era persa con le puntate a distanza perché non si possono firmare le cose a distanza e il punto è che da quando lo facciamo a distanza abbiamo anche iniziato a fare due puntate a settimana quindi tipo ci sono 50 puntate qua e 40 a distanza quindi mancano 40 firme su questo poster quando sarà tutto pieno tipo lo metterò in una bella cornice e lo appendo e ne faccio fare un altro in cambio del mio rene sinistro o possibilmente il rene di rapone che infatti è andato a farsi questa questa visita per vedere se può dare un rene al podcast va bene intorno di qua perché se no sono pagato per i saluti allora grazie mille grazie a te ciao a tutti ci vediamo alla prossima puntata c'è gente che lo fa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti